Pedro Pinto Pedro Pinto adesso ci tira con chi escono con chi hanno preso Roma e Juventus bombe ma chi è il Pedro Pinto? ma non lo so nezz... lo vogliamo googlare che fa a me sapere ma io non voglio un Pedro Pinto ma mette c'è Totti c'è Totti, c'è Del Piero, c'è qualcuno dei forti Del Piero che c'è non c'ha potere va bene insomma chi è uscito? ancora niente tu da siga senti ha Pinto parla di meno e tira fuori ste palle ma è arrivato Giorgio Marchetti mamma mia un po' di fregna la figlia non c'è un UEFA metto Pinte manca sono infantino poi ecco Totti tempestini mazzo è brutto mamma mia la stanza per Totti tempestini che fai? prenota le stanze del Bergattotti scusate sono tempestini la mia moglie è Francesco mia magnonna una camera per due e buffet colazione continentale che tu? che sei? a non dormo non c'è si che tu? allo steno una camerata da otto ecco qua c'è figlia qui questa è Laura Giorgi che fai questa navita? la cacciatrice la cacciatrice che bella ora viene pure Luis Garcia ricordate quello dell'Iverpool viene a fare la rimesta le palle ragazzi non è un show estraete queste palline andamosele a mangiare dai ora è arrivato uno che i denti da cavallo che dai ecco pare una messa mamma mia che dai c'ho fame vedete la riccia se maneggia le palle le palle ecco la prima palla ecco ecco rimesta le palle eccolo la palla ma non lo so si si eh che vi è di 0 4 ecco garzia la prima palla attenzione momento momento importante dai questa palla chi è? ma c'è sì dai riccia seconda palla vai attenzione ma mia gananzia chi è? chi è? l'atletico del Madrid Dario Garcia svida sta palla faccia del foglietto sbrigate sbrigate Juventus con Atletico Madrid allora la riccia apre un'altra palla e il Manchester United quindi quindi lo United mi affronta mi affronta Paris Saint Germain ah è la partita c'è per me la Juve Pass c'è lì lì si ho cazzi eh però per me è passato il Tottenham Hotspur contro il Tottenham contro e il Borussia Dortmund ah altra bella partita di calcio questa diceva che l'Atletico è in soldi calcio questo è ancora più di calcio è ancora più di calcio la Riccia la Riccia la Riccia la Riccia la Riccia pesca con il pic Lione e Lione becca e Barcellona ah cazzo tu a Lione a S Roma la Riccia ha detto a S Roma attenzione chi potremmo becca' ma il Porto il Porto il Porto il Porto fa solo beviamo ma non esistono però insomma